per la prima volta dall'inizio della nota pandemia è stata individuata nell'aria ionico etnea una struttura ricettiva che risponde ai requisiti richiesti e che ha aderito al bando regionale per il reperimento delle strutture alberghiere da destinare a covid hotel si tratta del king house hotel di fondachello di mascali sulla parallela di via spiaggia l'albergo che si struttura in diversi plessi assestanti è dotato di complessive 50 camere dislocate per gruppi di dieci in diverse palazzine che circondano una gigantesca piscina nella struttura alberghiero di fondachello i pazienti sono arrivati lo scorso venerdì in ambulanza da diverse località siciliane si tratta in larga parte di turisti stranieri giunti in sicilia in aereo anche da stati extra europei e comunque da paesi potenzialmente esposti alla rischio di fusione contagio e che stanno presentando livelli elevati di propagazione del virus nessuno dei vacanzieri comunque risulta contagiato come conferma leonardo zappalà amministratore della struttura alberghiero di fondachello nel plesso ricettivo sono ospitati esclusivamente quei pazienti in quarantena che non hanno la possibilità di trascorrere l'isolamento a domicilio per ragioni logistiche o sanitarie l'aria vigilata e da un ingresso diversificato e separato rispetto all'intera struttura alberghiera benché le finestre delle camere si affaccino sulla stessa invitante piscina fruita da centinaia di vacanzieri che affollano l'albergo maschilese in piena stagione estiva zappalà tiene a precisare pochi gli ospiti rimangono comunque tassativamente in camera e non possono girare per i corridoi o violetti del villaggio turistico in tal senso è attivo anche un dispositivo dell'azienda sanitaria provinciale che oltre a garantire la distribuzione la somministrazione dei pasti che viene attraverso una convenzione esterna si occupa per l'appunto della vigilanza medici e paramedici sono presenti nell'arco delle 24 ore e seguono l'evolversi della quarantena tutti i pazienti naturalmente verranno sottoposti a tampone